il participio perfetto come il participio presente può avere funzione nominale o verbale per capirlo vediamo innanzitutto alcuni esempi nelle orazioni controverre dette anche verrine nel 70 avanti cristo cicerone adducendo una serie di prove molto convincenti riesce a dimostrare la colpevolezza del proprietore della sicilia che si era macchiato di corruzione berre è la quintessenza del politico corrotto tant'è che omnia dicta et facta istius turpia sunt tutte le cose dette e fatte alla lettera di costui sono vergognose qui abbiamo due forme del perfetto del participio perfetto ditta e facta rispettivamente participio perfetti neutri plurali di dico e faccio una prima traduzione potrebbe essere appunto le cose dette le cose fatte di costui sono vergognose volendo perfezionare la nostra traduzione potremmo dire le affermazioni e le azioni compiute da costui sono vergognose oppure ogni cosa detta e fatta da costui è vergognosa in ogni caso i participi perfetti dicta e facta hanno valore nominale perché li abbiamo tradotti con sostantivi le cose dette le affermazioni e le azioni compiute le cose fatte magna cum trepidazione nostri multos suos vulneratos videbant con grande agitazione dice labieno rivolto a cesare magna cum trepidazione nostri i nostri videbant vedebant vedevano multos suos molti dei loro cioè molti loro compagni vulneratos feriti vulneratos è il participio perfetto in caso accusativo plurale di vulnero vulneras vulneravi vulneratum vulnerare che significa ferire il participio vulneratos concorda con suos aggettivo possessivo riflessivo sostantivato i loro cioè i loro compagni abbiamo tradotto vulneratos come un aggettivo i loro compagni feriti quindi in questo caso il participio perfetto assume funzione nominale conquistata definitivamente la gallia e sconfitto pompeo nel 48 a farsalo cesare è diventato il padrone di roma ma a differenza di silla non infierisce né sui suoi nemici politici con le famigerate liste di proscrizione ne procede alla cosiddetta damnazio memorie cioè alla cancellazione sistematica di qualsiasi monumento o iscrizione che ricordi le gesta e l'operato politico di uno scomodo predecessore cesare infatti afferma statuas luci sulle et pompei a plebe disiectas reposui reposui cioè feci ricollocare statuas le statue luci sil sulle et pompei di lucio silla cioè di lucio cornelio silla e di pompeo a plebe disiectas abbattute dalla plebe oppure che erano state abbattute dalla plebe il participio disiectas che concorda in genere numero e caso con statuas può essere tradotto con una subordinata relativa che erano state abbattute la quale svolge la funzione di attributo perché specifica appunto con una proposizione una caratteristica del nome le statue in questo caso il participio disiectas svolge la funzione nominale grazie